Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Bentornati ad una nuova puntata di Risolto Giallo, sempre con Alessia Sorgato e... Sempre, sempre, sempre Niccolò Mazzavillani. Siamo fortunati, teniamo il trend, ragazzi, finché dura, prima che scompaia. E questo ragazzo meraviglioso ha una grande fortuna di incontrare un ospite meravigliosa, una scrittrice che ci piace tantissimo. Benvenuta Patrizia Militri. Grazie mille, che onore averti qui. Tra l'altro, voi lo saprete adesso, Alessia ha detto una cosa che non mi capita molto spesso di sentire da lei, ovvero, nient'altro che nebbia, letto... Vediamo se lo inclino in modo giusto. Eccolo qua. Letto due volte, hai detto. Ah sì, scusate, abbiamo detto fuori microfono, non vi siete persi un pezzo della trasmissione. Letto due volte. Quante volte ti è capitato di rileggere un libro due volte, considerando che te sei una divoratrice di libri? Che te, cioè veramente non durano niente i libri con Alessia, perché dai un giorno, un giorno dopo l'ha già finito, già recensito, già scarabocchiato. Allora, ci sono dei libri che ho letto anche venti volte, perché mi piacciono da impazzire. Tendenzialmente, no, lo leggo una volta sola, la narrativa... Ah, ok. E quindi che cosa ti porta a rileggere un libro due volte? Arriviamo poi, Patrizia. No, sono in curiosità di sapere se l'ha letto due volte, perché la prima volta non l'ha capito, o se l'ha letto perché invece gli è piaciuto. Questa è una domanda interessante. Allora, ci sei molto vicina. L'ho letto così di foga, ci ho visto credo una domenica, così di foga, perché mi piaceva, l'ho fagocitato, ho fatto la bulimica la prima volta, ma l'ho riletto la stessa settimana? Cioè, se l'avevo letto la domenica, l'ho ripreso il venerdì e me lo sono letto tra il venerdì e la domenica successiva, perché volevo invece andare a vedere il prezioso che c'era nelle pieghe delle parole, non soltanto arrivare in fondo, perché mi stava piacendo lo stile. Praticamente Alessia che legge un libro è così, boh, finito, recensione. Dai, parliamo con la nostra ospite. Eccoci qua, Patrizia. Intanto facciamo vedere anche il nuovo che viene a presentarci. Eccolo qua. E nel mezzo ce n'è un terzo, che però io ho al lago, e quindi è rimasto lì. Mi aspetta, mi aspetta. Io sono emozionato però a parlare con lei. Chi dire tu qualcosa? Allora, io... Faccio paura? No. No, intanto tu sei un'autrice che ha messo d'accordo, e non accade spessissimo, mia madre e me. Nel senso che nient'altro che nebbia è piaciuto tantissimo a tutte e due. Bene, sono contenta. Non succede spessissimo. Adesso le passerò il mio dovere, vediamo se il miracolo si ripete. Sarà un tuo dovere passare. Sì, esatto. Scusate, battuta infelice, ma dovevo farla, perché se no... so che me ne sarei pentito. Io l'ho capita adesso. Ecco, ho detto. Allora, Patrizia, Alessia, poi mi ha... sempre a microfoni spenti, mi ha detto una cosa, e da lì io vorrei partire, che è difficile riuscire a identificarti in un genere. Spiegami. Sì, come appunto, come dicevi, parlavamo prima, a microfoni spenti, io non ho un genere che prediligo. Diciamo che mi piace moltissimo scavare all'interno di un evento che può succedere nella vita di chiunque, un evento particolare, e quindi mi piace scavare poi la reazione delle persone davanti a questo evento. Quindi scavare, come nel caso di Nient'altro che Nebbia, dove c'è una ragazza uccisa dal migliore amico del fratello, dove ci troviamo in un paese di provincia, dove ci sono queste due famiglie che si conoscono da sempre e che hanno rapporti da sempre, e quindi scavare all'interno all'interno della famiglia della vittima, ma anche della famiglia dell'assassino. Cioè la reazione che esiste all'interno anche di un intero paese. Perciò ti ho chiesto se l'avevi letto due volte, perché magari avevi avuto difficoltà, perché ci sono tantissimi personaggi, perché è coinvolto l'intero paese in questa vicenda. Proprio perché ciò che accade in una piccola comunità rende responsabile, quasi responsabile, tutta la comunità. E quindi mi piace scavare in questo senso. Nel mio dovere scavo invece all'interno di una coppia, dove al momento della pensione, del momento della pensione del marito, si scopre una vita matrimoniale diversa da quella che si era pensata. Cioè la moglie aveva pensato alla vita quotidiana, alla villa, alla famiglia, ai figli, lui aveva pensato alla carriera, al riscatto sociale, alla ricchezza da portare alla famiglia. Quindi entrambi hanno fatto il loro lavoro e il loro dovere, ma entrambi hanno percorso una loro quotidianità completamente diversa. Lui è un manager di successo che viaggia per il mondo, lei è una donna che segue la casa e la famiglia. Nel momento della pensione del marito, questa quotidianità scoprono di non averla e quindi devono ricrearla perché scoprono che la loro vita praticamente scorreva su due binari paralleli e questi binari a un certo punto si devono riunire perché i figli sono grandi e i loro due devono comunque invecchiare insieme. Come ti è venuta questa idea? Mi è venuta anche conoscendo delle coppie dove uno dei due, non necessariamente il marito o la moglie, è andato in pensione oppure sono andati in pensione tutti e due e mi è capitato di parlare con alcune persone che mi hanno rivelato delle difficoltà perché comunque sia nel momento lavorativo ognuno ha la propria vita, ognuno ha i propri ritmi e ha la propria velocità quotidiana nel momento in cui uno dei due smette di lavorare e diciamo così a grandi linee torna a casa non dico che è un ospite però comunque sia deve rimettere in gioco la sua quotidianità. Ti faccio un'altra domanda subito poi ti lascio Nicolò. Questo libro, questo si può dire, è scritto in una maniera molto particolare. C'è un capitolo in cui parla lei, un capitolo in cui parla lui. Infatti sarebbe stata una mia domanda. No, no, ma te la lascio fare. Mi sono chiesta spesso per chi dei due tu parteggiassi perché per buona parte del romanzo avrei risposto in un modo e sul finire invece ho cambiato radicalmente idea. Al netto del fatto che comunque sono figli letterari tuoi tutti e due, quindi immagino che li ami alla stessa maniera. Hai provato anche tu quest'altalenanza di empatia nei confronti dei tuoi protagonisti? Diciamo che io sono partita sapendo già che nessuno dei due aveva ragione e nessuno dei due aveva torto. Entrambi hanno le loro giustificazioni e quindi non parteggio per nessuno nel senso che se alla fine sembra che magari lei lo abbia maltrattato o trattato male all'inizio anche lui ha forzato determinate situazioni. quindi è proprio un movimento continuo a volte ha ragione uno a volte ha ragione l'altro su alcuni argomenti ha ragione uno E colpa di tutti e di nessuno Ma assolutamente Però hai accettato il rischio che il lettore si schierasse in fondo l'ho fatto anch'io Inevitabile credo Ma io lascio che poi il lettore decida come vuole E' chiaro che io in questo caso ho dato il mio di finale perché alla fine la fine della storia c'è ed è la mia Poi il lettore può anche decidere che sia completamente diversa E ci dici quante crocette ha uno e quante crocette ha l'altro A me piace lasciare che il lettore abbia anche voglia di immaginarsi siccome ho già fatto degli incontri soprattutto con questo ultimo libro che devo dire crea curiosità e c'è chi tenta di modificare il finale c'è chi mi dice ah però lei faceva così sì però risponde un altro eh però anche lui quindi diciamo che Quanta gente si è medesimata Sì sì no assolutamente questo mi ha fatto molto piacere Ti faccio un'ultima domanda eh relativo a il mio dovere poi mi piacerebbe che passassimo a nient'altro che nebbia perché appunto visto che Alessia ci ha avuto un rapporto particolare sarebbe interessante approfondire anche questo quest'altro romanzo io quello che ti volevo chiedere è il titolo si chiama il titolo del del romanzo è il mio dovere qua nel retro di copertina leggo sono stata una brava persona per tutta la vita ho sempre fatto il mio dovere io non c'ero sono due persone che parlano credo quindi questa è una la seconda io non c'ero anche se c'ero e come ci sono sempre stata ho sempre fatto il mio dovere ma qual era il mio dovere davvero qual era questo continuo uso della parola dovere 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 che significato ha per te allora ha un doppio significato nel senso che il dovere era quello di creare una famiglia no? Lisa e Mariano si incontrano si innamorano si sposano e creano una famiglia e quindi c'è il dovere di mantenere e accrescere questa famiglia questo dovere viene diviso in due come dicevo prima cioè Mariano penserà a creare l'ambiente migliore per i suoi figli e per la sua famiglia e per se stesso perché lui è figlio di Frutti Vendoli ed arriva ad essere uno dei manager più famosi d'Europa quindi uno stato sociale molto alto un livello economico molto alto e lei con il suo dovere di mantenere anche questo stato sociale infatti lei nel libro dice quella foto di famiglia che tu hai sulla scrivania la devi a me quindi lei segue il dovere di mantenere questa cosa lui allo stesso modo ha un altro tipo di compito la seconda giustificazione secondo me può essere un alibi cioè con l'alibi del fare il proprio dovere ognuno dei due ha fatto la vita che voleva fare alla fine interessante questa questa visione non è dispiaciuto a nessuno dei due no no certo 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 visto che Nicolò ha riportato l'attenzione anche su nient'altro che nebbia la grande differenza evoluzione tra l'uno e l'altro è che qui il punto di vista era un punto di vista multiplo come tu ricordavi giustamente è un romanzo corale ci sono tantissimi personaggi ci sono tantissimi personaggi a cui ci si affeziona moltissimo perfino il detenuto non diciamo se colpevole o meno perfino il detenuto in qualche modo crea affezione crea empatia qui si sposta invece sul punto di vista soltanto di due persone con i comprimari che rimangono tutti un po' sullo sfondo anche se anche loro soprattutto la suocera dà tanta affettività è qualche cosa è un esercizio non dico di stile perché sennò sembrerebbe mestiere è un esercizio letterario che tu hai voluto o che è venuto da solo passando da una trama all'altra in maniera così radicalmente diversa anche le voci che parlano qui è un intero paese lì sono solo i due esatto no io volevo proprio raccontare la storia la loro storia dal loro punto di vista non mi interessava assolutamente che cosa potessero pensare le persone intorno a loro io volevo solo il loro punto di vista di lei e di lui troverete addirittura alcuni fatti che sono gli stessi raccontati da lei raccontati visti da destra visti da sinistra diceva Guareschi mi interessava fare questo discorso mentre invece in nient'altro che nebbia c'è un coinvolgimento generale e quindi lì erano importanti anche le parole e i punti di vista delle persone che vivevano intorno a queste due famiglie una ripeto la famiglia del colpevole e una la famiglia della vittima quindi è stata proprio una scelta qui non c'è nessuno che parla al di fuori dei loro due a me interessava solo il loro punto di vista perfetto sai che io davvero non lo dico spesso ma io sarei tanto curioso di leggerlo questo libro io non lo dico tanto spesso io poi sono uno lentissimo a leggere ci metto mesi e mesi se non anni io sono assolutamente basita no perché sembra molto reale come cioè come descrizione perché effettivamente in una relazione ci sono sempre due punti di vista chi ha ragione uno l'altro non si sa ma anche solo per la psicologia femminile maschile è molto diversa e poi io credo che all'interno di un rapporto di coppia interessa quello che pensa l'altro non tanto quello che si pensa nell'intorno sì magari si possono ricevere dei consigli o delle delle parole dalle persone che ci sono intorno vuoi che siano madri padri figli suoceri eccetera però il rapporto di coppia è un rapporto assolutamente intimo e quindi io volevo che fosse così volevo che fossero solo loro due a raccontare se stessi allora io non so in quanti siete lì in questo momento che ci state guardando ma facciamo un esperimento Patrizia gli diamo fiducia gli consegniamo il suo dovere esatto e vediamo cosa succede diciamo sappi che tra un po' dalla mia parte ho il complimento che mi fanno spesso che ho una scrittura molto lineare che scivola che è un non sono così contorta nello scrivere no no ma anche perché poi il linguaggio che c'è in una coppia è un linguaggio molto semplice non è un linguaggio come dire forbito un linguaggio vediamo vediamo diamoti fiducia ragazzi perché c'è questa diffidenza il tempo tiranno Patrizia mi mandi un'altra coppia perché questa non la vedo più volentieri da lei si è assorgato e risolto giallo a presto e da Niccolò Mazzalilani buona giornata e buona serata a tutti grazie buona serata a voi e grazie mille quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo